Sicuramente abbiamo attaccato tanto, soprattutto il primo tempo, poi nelle ripartenze dovevamo farci trovare pronti e sicuramente dovevamo avere più equilibrio in certi momenti, però il calcio è anche questo e dovevamo avere anche più fortuna nel primo tempo a concretizzare di più e difenderci meglio, però oggi è andata così e fra quattro giorni avremo la possibilità di rifarci e farci trovare pronti. Sicuramente siamo portati bene, forte e volevamo sbloccarla subito, poi ripeto il calcio è anche questo, l'hanno sbloccata loro con un tiro da fuori e poi sicuramente avevamo tanta voglia di riportarla come volevamo noi e poi le partite sono anche queste, si gioca 11 contro 11, ci sono gli avversari e nelle ripartenze loro potevamo fare sicuramente meglio, però abbiamo avuto comunque tante occasioni nel primo tempo e potevamo essere anche più più cinici noi